Musica Eeeh, ciao a tutti ragazzi, io sono Bayon Gamer E signori, nuova settimana, ciò vuol dire che abbiamo un nuovo agente speciale Ovvero lo European Championship Stars E questo è quello del pool da collezione Ma abbiamo anche gli agenti del Flamenco e del Vasco de Gamo Ora io ho già visto l'elenco bersaglio di questi agenti Eeeh, andrò a gelare, visto che manca il Player of the Week Il Flamenco Tutte palle nere Ma signori, direi di iniziare prima di tutto col Premium Agent L'agente che prenderemo per 30 settimane Avendo acquistato la Legend Edition Quindi signori, direi di iniziare subito dal Premium Agent Poi ci andiamo a girare 3 giri fisse, quindi 300 monete sul Flamenco Dopodiché passeremo al pool Quindi al European Championship Stars Quindi signori, contattiamo il Premium Agent Confermiamo Vediamo stavolta dove andrà a cagare Devo abbassare assolutamente il volume della televisione Perfetto, siamo in... Da nessuna parte Ma è palla oro Svincolato Cioè poi mi dite, prendi mascherano Con la televisione generale 80 livello 30 Sì, buono Ce l'ho già E che porco disco, dai Ce l'ho già, porca puttana Vaffanculo, andiamo avanti Sì, 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 sì E in più ci sono anche Under e Dido Dido Va bene, andiamo avanti Ora signori Ora signori Agenda speciale Andiamoci a vedere il profilo del Flamenco Vedere 100% Palla Nera, signori E... Perché sto puntando sul Flamenco? Perché ci sta Rodinei Non so se si dica così ragazzi Ma è un terzino destro Palla Nera Valutazione generale 87 Io al momento punto a lui Ma non è che gli altri mi facciano schifo Però se mi arriva lui Sono contento Quindi signori Torniamo indietro Contattiamo la gente per 100 monete Confermiamo Io direi di schippare qua ragazzi, dai Ce lo sappiamo che ho pa... Vi ha beccato Diego, trequartista Attenzione Trequartista Vediamo un po' Voglio vedere meglio le sue caratteristiche Perché se c'è un ottimo controllo Palla Ragazzi sono a cavallo, eh Mi piacciono i giocatori che c'hanno un ottimo controllo Palla Quindi salgo su C'ha controllo del corpo 99 Controllo Palla 86 Schifo non mi fa Calcipiazzato 89 addirittura Uh Resistenza 76 Questo se gli facciamo fare tutta la partita Ad un certo punto va cambiato Va bene, va bene signori Andiamo avanti Non male come pescata E di Egito Ce lo siamo portati a casa Ora, seconda pescata Con Flabenco Club Selection Contemolo gente Paga con monete Conferma Schifiamo Perché ripeto inutile Andrà Va in Brasil Chi è? Lucas Pacheta Pacheta Lucas Pacheta Un altro trequartista Io volevo il terzino destro Andiamo avanti Bel ciuffo zio Vediamo un po' E allora 3, 2, 1 Controllo palla 93 Controllo del coppo 93 Questo mi sa che è pure migliore dell'altro L'esistenza 81 Però fa una fisica qua Quindi se c'ho culo Lo becco freccia gialla Però va bene C'è un contadino Vediamo Queste prima non le ho viste C'è pure nullucca Attenzione signori Va bene, va bene Andiamo avanti Terza per scada col flamenco Club Selection Signori contadiamo la gente Paghiamo con moneda ovviamente Confermiamo E schippiamo E per Torribeiro CLD Valutazione generale 8 Schifo, ripeto Non mi fa Bello fra te Questo sembra drogato Ok, allora Vediamo un po' Cioè ragazzi Sono ottimi Sono ottimi Tanta roba L'esistenza 83 Non è male Fama fisica 5 Non è male Pallonetto mirato Sì C'ha pallonetto mirato Non ho visto gli altri Sinceramente Non ci ha fatto caso C'hanno pallonetto mirato Però va bene Va bene signori Andiamo avanti Now Ci andiamo a fare 4 giri Nel European Championship Stars Quindi andiamo Sul pool da collezione Sono ragazzi Ben 498 Giocatori Voi direte Cazzo Sono tanti Però se avete avuto La pazienza di andare Sul profilo Vedrete anche Che ci sono Ben 80 Palle nere E 204 Palle oro Quindi ragazzi Tanta roba Andiamoci a vedere L'enco bersagli C'è Ronaldo Messi Neymar Davide Gea Vi devo nominare Gli altri Non penso proprio Dai ragazzi C'è qua tanta roba Veramente Tanta carne al fuoco Ora io Tra centrocampo E Attacco Sostanzialmente Non sono messo male Ora dopo Andiamo a vedere Un po' la squadra Prima ci andiamo a fare Queste quattro pescate E la difesa Che un po' mi preoccupa Non tanto per i difensori Centrale Ma Più che altro i terzili Ora Come sapete Chi ha visto Lo scorso Puck opening Ha visto che Ho preso Daniel Carvajal Va bene Ma poi non ho più nessuno Ragazzi Cioè come top player Non ho più nessuno Quindi Ci andiamo a fare Quattro giri qua E vediamo se riusciamo A pescare qualcuno Ovviamente ragazzi Se ti becco Non è che mi fa schifo Attenzione Però l'obiettivo Sarebbe quello Di riuscire a prendere Qualche buon terzino Ora signori Iniziamo con la prima pescata Ok Qua ovviamente Pagheremo con GP Quindi signori 25.000 di GP Contattiamo la gente Paghiamo Confermiamo E stavolta Invece di skippare Accendiamo a vedere L'animazione Tutto blu Perfetto Sarebbe altro Europa Tutto blu Palla oro Va benissimo Shock 04 Burgstaller Burgstaller Prea.81 Rapaceo Oltre a lui Chi mi dà E io sto cercando di Vorrei dire cazzare Comunque Kver Kveria Invece di centrale 81 E Fernando Mediano 79 Abbiamo fatto abbastanza schifo Andiamo avanti E ci andiamo a fare La seconda Per skar Contattiamo la gente Pagha con GP Non monete Confermiamo Iscritta My Club Mo parto Nelle striscioline Campionato spagnolo Esatto Ed è Palla nera Real Madrid Oh Modric 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 Signori Real Madrid 2010 Modric E lui Ottima 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 Cazzo Pescata Non ve lo presento Lo conoscete già Ma che Dova Sta cazzo Di maglia Si E in più Abbiamo preso Anche un ottimo Terzino Sinistro Va bene Va bene Che sarebbe blind Ovviamente Più All that Però Ragazzi Voglio vedere Allora Aspetta un attimo Oddio Controllo Palla 91 Passaggio La sua terra 94 Controllo Del coppo 92 Due anni fa Pesso 2017 Modric Mi fece Alquanto schifo Su Pesso 2018 E' stato Titolare Fisso E mi auguro Che possa esserlo Anche quest'anno Ragazzi Me lo avevo Resistenza 86 Forma fisica 8 Cioè 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 Andiamo avanti Andiamo avanti Ok signori Due pescate le abbiamo fatte Abbiamo preso Modric Abbiamo preso Brind Va benissimo Nel momento sta andando Molto bene Ora ci andiamo a fare La terza pescata Quindi Contatiamo la gente Paghiamo con GP Confermiamo Scritta my club Andiamo in Russia Paloro Va bene Moschile Non fa un cazzo Miramchuk Miramchuk No Miramchuk Miramchuk Trequartista 81 Ni 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 O di meglio Sinceramente Però C'è anche Ander Herrera Secondo me È meglio Ander Herrera E guarda lì Che non me ne ho manco accorto Beccato pure Di Arrame di Ana Ottimo Allora Tu non mi interessi Andiamo su Ander Herrera Eh Molto equilibrato Raga Questo fatto crescere Secondo me Tanta roba Esistenza 85 Fama fisica 6 Taglio le spalle Giro Passaggio calibrato Questo le piazza Di Arrame Andiamo su Di Arrame Sbam 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 Abilità difensiva 82 Repubblico palla 82 Insomma Mica tanto sbam Sostanzialmente Però A me è sempre piaciuto Di Arrame Esistenza 82 Fama fisica 7 Passaggio di prima Passaggio a scavalcare Spirito combattivo Tanta roba Tanta roba C'è pure collante Ottimo mediano Veramente Andiamo avanti Ladies and gentlemen Ultima pescata di oggi Come avete potuto notare Non ho azzerato Assolutamente il pool Abbiamo pescato comunque Una palla oro Dopo una palla nera Io continuerei così Per oggi E E Non vi prometto nulla Ma Prossima settimana Inizio della prossima Settimana Forse Riesco a far uscire Un video Un pack opening Sempre con questa gente qua Con Desi Chi non conoscesse Desi Ragazzi Chi è nuovo Magari nel canale Nuovo iscritto È la mia ragazza Volete farvi 4 ore risate E andatevi a vedere I ball opening Fatti sul Pesso 2018 Quindi visto che molti Me l'avete chiesti Se riesco Inizio della prossima settimana Poco opening Con lo European Championship Star Ok? Ora per le signori Conclusione Andiamoci a fare L'ultima pescata Quindi Contattiamo la gente Pagato GP E sempre che va sulle monete Sto stronzo Confermiamo Ovviamente non salto Non skip Perché voglio vedere Dove va a cagare Iscritta my club Andiamo in France Attenzione Potrebbe essere una palla nera È oro Schilla Dimmi che schilli Non schilla Raffaella Un terzino adesso Qualche terzino L'abbiamo pescato Cioè Vorrei di meglio Sinceramente A meno Da un 84 E poi Però va bene Però va bene Però va bene Tutti contenti Quando arrivano A giocare Con sottoscritto Non mi aspettavo Di meglio Però sinceramente Con un 80 Non mi posso lamentare Più di tanto E allora Vediamo un po' Come è combinato Raffaella Molto equilibrato Molto equilibrato Non c'ha Dei picchi Però è molto equilibrato Sostanzialmente Ottima resistenza Forma fisica 4 Questo già mi fa Storcere al nato Questo va portato Quando sarà Valutazione B Minimo Sombrera Crosscalibrato Rimessa lunga Disivegna acrobatica Ho come l'impressione Che diventerà Un ottimo Allenatore Comun Andiamo avanti E ce lo portiamo Nel McLeod Va bene C'è taglia Io direi che per oggi Abbiamo finito Ma 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 Non staccate Perché vi devo chiedere Un consiglio Io al momento Come allenatori Anzi no Scusate Vi devo far vedere la squadra Diciamo Rimpolpata Aspettate Aspettate Ce l'avete ragione Ce l'avete ragione Ve l'ho detto all'inizio Ce l'avete ragione Allora signori Eccola qua Io in questo momento Supero i costi gestionali Dell'allenatore E ci sono andato anche Parecchio basso Perché sostanzialmente Se mi sposto un attimo Andrete a vedere Che ci sono Romario Bambà Coutinho Diego Sergio Busquets Neto Scrinier Eccetera eccetera Considerate sempre Che Romario E Coutinho Sono in prestito Anche se legge Busquets Ora ragazzi Io voglio chiedere Un consiglio Perché io ho notato Questa ovviamente Voi li leggete Sarri Ma è Carletto Ancelotti Che al momento Come costi gestionali A 565 Certo Li potrei alzare Però non mi convince Tantissimo Comunque sia Sto modulo Motivo per cui Voglio chiedere Se voi avete provato Altri moduli Anche perché Ho visto che Il più gettonatissimo È il 4-2-3-1 Ok Con CLS CLD E prima punta E i 4-3-3 Che ci sono Che sono usciti Fino ad oggi Sono tutti Con i centrocampisti Bloccati Nella mediana Ciò vuol dire Che non essendo sopra Non possono diventare Trequartisti Il che per sottoscritto È un casino Perché io con i trequartisti Ci gioco E quindi Spezzagli le gambe Mettendo il cc Salute Ragazzi La cosa mi fa storcere Alquanto il naso Quindi la mia domanda è Ragazzi Voi Quali moduli avete provati E con quali vi siete trovati meglio Sia con i giocatori Nel ruolo E sia con giocatori Fuori ruolo Esempio banale Tipo un bail Messo CLD O CLS Giusto per farvi un esempio Molto molto banale Così prendo la decisione Definitiva E magari mi vado a spendere Qualche gp Per comprare Un nuovo allenatore Con costi gestionali Decisamente più alti Rispetto Carletto in cialotti Poi ovviamente Sarebbe da provare Vedere se Si abbina bene Col mio stile di gioco Anche se c'è da dire Che quest'anno Dobbiamo essere anche noi Ad abbinarci Allo stile di gioco Del gameplay E sta cosa Va bene Va bene Va bene Ok Centaglio Io direi che per oggi È tutto Prima di concludere Col video Vi ricordo Di passare Dai canali Di Crisab E mi dal tubo GabiGamer74 Di cui trovate Il link Qui sotto In descrizione E sempre Qui sotto In descrizione Trovate anche Il link Di Pessitalian Bar Il nostro gruppo Di facebook Detto ciò Centaglio Aiutatemi Mi raccomando Se il video Vi è piaciuto Vi invito a lasciare Un bel pollicione In su E commentare La prossima Ciao Ciao